Dove dai? Ok, voglio il nostro elicottero La via di fuga mi ho trovato L'elicottero Uh, la via di fuga venga a pigliare con l'elicottero Hai capito? Venga a pigliare con l'elicottero, bravo! Brava, venga a pigliare con l'elicottero, vai giù RENGA FAAAAAAA No, no, no Vado, mamma mia, vai giù Ma come è così, mamma mia Via, è morto Sì, ten' esplosione, ho sentito Di che tu? Senato Direttore Si sa ci sei puntato a polla a polla Ma io niente mi sa che si è fatto male Ha sentito l'esplosione Ma io mi sa niente più di cotto Ma io che si uccide L'ho detto che devo guidare io Mi ha cacciato dall'elicottero Mi ha cacciato Ma non mi ha cacciato dall'elicottero Ma com'è possibile Senato Eh Giorgi ci sei? Giorgi Ma chi è Giorgi? Si si è baciato con l'elicottero Direi vedi Dove pigliaria aveva detto Non l'ho fatto a posto Vai giù Non mi ha cacciato dall'elicottero Porco Dio Vedo l'elicottero Siu cazzo Ma guarda per Ma che lo è Ma che ne sa Che mi ha cacciato Non mi ha cacciato Non mi ha cacciato Non mi ha cacciato Pulsando Porco Dio Alex tu dove sei? Sto vicino a Ti ho cacciato Spettavoli di cimini Ma guarda per Spettavoli di cimini Non mi ha cacciato Non mi ha cacciato Non mi ha cacciato Non mi ha cacciato Ma che spazio Non mi ha cacciato Non mi ha cacciato ok l'ambulanza sta venendo sì o no che qui c'ho gli ostaggi e giustamente hanno prescia come rimborsi la cosa semplice con l'auto non faceva il schifo con l'elicottero ma dove posso andare l'elicottero a caffè io finite al mi ha cacciato non ho premuto niente io ho premuto il pulsante della radio io stati fermo stati fermo non capisci o non capisci no no ho premuto nulla ho premuto la lama che è fatta apposta va giù ma voi si diceva ho durato l'elicottero che non si trova in gira così ma voi si diceva non ho premuto un cazzo e premono mille pulsante puoi giocare a radio, telefono e parla la voce sangra maronna e gesù cristo pulsante a ca, pulsante alla, pulsante a ca ma che si può rifare ma pure hanno dato l'elicottero tutto portavo io vieni 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 veloci vieni grazie l'ha finita con questi questi due nazione per favore la volta è finita di romperemo il cazzo con questi cazzo di suoni si porco dio frango allora question ho direttore se è passata lo fa brevi vuoi stasicatt… mettiamo se si rianima così non penso però che farà 10 minuti vanno a giocare, ma che hai fatto apposto, guarda ma siete scemo, siete fatto apposto, hai una farapina fatta apposto, era bello la fuoco dell'elicottero, cagliusci, neve, e pia e mani, che non sa, c'è venuta la radio e chi l'ha cacciato fuori, e premere mille pulsanti, sei a buttare l'elicottero, sei a buttare, sei a buttare l'ato, comunque senti qua, senti qua, non ci stanno i miei, ciao. ecco il volo, ho il titolo della live, ecco il volo, eh 10 minuti ci vogliono, va giù, per il bot dell'ospedale, Raffa è andato per 1-1, non l'ha giù fatto, ci vogliono 10 minuti, non capito allora, dietro con calma, eh non capisci, eh normalizzavo no, che è, sa bene magari è tutto calcolato, grazie per l'invito, bello nome della live azzeccato, stasera si vola IEA oh se ha fuori, abora è confine, o se ha fuori, se ha fuori, si ha fuori, abora è me lo ridanno me lo ridanno Alex 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 mi senti? mi sento prendiamo la salma e portiamola in ospedale prendete la salma la salma? ma com'è la salma? non capiamo ho fatto voler l'angelo porca duro ma già è vero ma non è voluto da me non è stato voluto da me porca puttana magari secondo te magari dimmi l'helicottero in una cazzo di fuga e... se non lo riesce a questi secondi no Alex aggiornami dai che sta passato a putienda eh ecco qua per terra ma che sono stati? allora usur pal corpo non lo fa via lontanati no no non lo fa via ti prendi sui averi? vabbè 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 nooo aspettando aspettando cosa fa via? vabbè 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 vabbè